Questo è il professor Bassetti. Bassetti ha fatto letto anche pubblicità di un negozio di abbigliamento e altre cose. Lei farebbe mai pubblicità? Guardi, io non fare mai pubblicità, ma mi sono imposto di non guadagnare un singolo euro da questa pandemia, da questa disgrazia. Tutte le richieste di consulenza poi si sono trasformate in donazioni al Dipartimento proprio per evitare qualsiasi commistione tra quello che poteva essere un interesse personale e un dovere pubblico. Senta, Bassetti più volte ha fatto anche elogi a leader del centrodestra e di Salvini. A lei invece era stata offerta a un certo punto una candidatura per Movimento 5 Stelle e centrosinistra, una candidatura che credo che lei abbia rifiutato. Ma le passa per la mente che un professionista, un professore come lei, possa decidere di entrare in Parlamento e fare politica? Ma guardi, dipende da diverse fasi della vita. Nel modo particolare, quando mi è stata fatta questa offerta, era chiaro davanti a me che saremmo andati di fronte a una seconda ondata e quindi ho pensato di poter essere più utile qui dove ero piuttosto che affrontare questa avventura in un mondo dove obiettivamente non avrei avuto un impatto minimo. Però non lo esclude per il futuro. Ma guardi, nella vita nessuno può escludere nulla, che vuol dire essere un ipocrita se dicessi una cosa del genere. Grazie.